Nei giorni scorsi durante le ordinarie attività di controllo finalizzate al contrasto dei traffici illeciti, i funzionari dell'ufficio delle Dogane di Salerno ed i finanzieri del locale comando provinciale hanno sequestrato all'interno del porto oltre 500.000 mascherine protettive, non potendone confermare i requisiti essenziali di salute e sicurezza stabiliti dalle normative europee. I prodotti irregolari rinvenuti all'interno di un container proveniente dalla Cina erano destinati ad una società di commercio all'ingrosso laziale. Lo smercio è stato però impedito dall'intervento delle fiamme gialle della seconda compagnia di Salerno impegnate in un'attenta analisi dei rischi riguardante la vendita dei dispositivi di protezione, proprio in ragione della delicata funzione assolta da questi presidi individuali nell'attuale fase di emergenza sanitaria. Considerata la natura della merce in ingresso dichiarata dal mittente, i militari hanno quindi concordato con i finanzieri antifrode dell'ufficio Dogane il blocco delle operazioni di scarico, così da procedere al materiale controllo fisico dei prodotti. Sono state in questo modo rinvenute durante l'ispezione centinaia di scatole contenenti mascherine protettive modello FFP2 che a prima vista sembravano del tutto a norma, essendo munite del previsto marchio CE obbligatorio per la commercializzazione e l'utilizzo nel territorio dell'Unione Europea. I successivi approfondimenti ed un più attento esame della documentazione esibita a corredo dell'operazione doganale, la quale doveva comprovare la regolarità tecnica dei prodotti, hanno però portato i militari ed i funzionari doganali a scoprire la falsità delle marcature CE apposta. L'attestazione di confermità, alla quale è subordinata l'applicazione del marchio comunitario, infatti era stata sì rilasciata dal competente organismo europeo, ma quest'ultimo aveva espresso quel parere positivo con riferimento ad una partita di mascherine chirurgiche. Si trattava quindi di dispositivi del tutto diversi da quelli bloccati in dogana. L'azione congiunta dei militari e dei funzionari doganali hanno condotto al sequestro penale dell'intero lotto di merce un totale di 552 mila dispositivi di protezione del valore di quasi un milione e mezzo di euro, impedendone l'immissione sul mercato e mancanza della documentazione prescritta dalla normativa di settore che attutela dei consumatori e certifica le caratteristiche tecniche. Su delega della procura di Salerno, le ricerche per ricostruire la filiera distributiva sono proseguite con interventi presso tre punti vendita della società importatrice a Roma e provincia, nonché presso la sua sede legale a Latina, dove i finanzieri di funzionari doganali hanno trovato ulteriori 116 mascherine, in questo caso del tutto sprovviste dei certificati di conformità. Il titolare dell'impresa importatrice è stato intanto denunciato all'autorità giudiziaria salernitana per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, ai rischi a fino a due anni di carcere, oltre alla multa fino a 20 mila euro. In caso di condanna definitiva, anche alla società sarà inoltre applicata un'autonoma sanzione pecuniaria di tipo amministrativo.